Giovedì 15 e venerdì 16 febbraio ci saranno fuochi d'artificio a terra amara. Preparatevi per gli eventi scatenati con l'incidente di Sanye e Gulten, e Zuleya che rinuncia al suo matrimonio. Le due sono in viaggio verso la villa per il matrimonio di Zuleya e Mehmet, ma il destino gioca un brutto scherzo quando, vicino a un agrumeto degli Yaman, vedono le maestranze di Kolak che stanno saccheggiando tutti i frutti. Sanye, senza pensarci due volte, scende dalla macchina e grida di fermare tutto. Ma il figlio di Kolak fa il bulletto dicendo che quelle terre sono loro e non degli Yaman. Sanye gli risponde senza mezzi termini, dicendo che sono loro e che dovrebbe vergognarsi di rubare in pieno giorno. Ed è qui che entra in scena Kolak in persona, minaccioso. Ma Sanye non si fa intimidire e senza paura gli fa capire che Zuleya è la padrona delle tenute Yaman e non gli permetterà di fare il ladro nelle terre della sua signora. Sarà una vera e propria resa dei conti. Dopo avergli detto di smettere di rubare, Sanye manda Kolak e la sua banda a farsi benedire. Ma Kolak, testardo e indisponente, ordina ai suoi tizi di raccogliere le arance. A quel punto, Sanye minaccia di chiamare la polizia se osano toccare anche solo una buccia. Kolak cerca di spaventarla, ma quando capisce che non la fa franca, tira fuori la pistola e inizia a sparare in aria, minacciando di riprendersi le terre. Sanye non si fa impressionare e gli risponde che lo denuncerà. Nel frattempo, Fikret è in azienda con Cetina a parlare del matrimonio di Zuleya, quando arriva la polizia con l'avviso che devono seguirli perché li sta aspettando il procuratore. Zuleya si sta preparando per il matrimonio, radiosa in un abito bianco elegante. Fadik le porta i bambini in tenuta da festa e lei chiede di Sanye e Gulten. Fadik risponde che sono andate a dare un'occhiata alla nuova casa ma stanno per tornare. Dopo, Fadik fa i complimenti a Zuleya dicendo che è uno splendore e le augura finalmente la felicità. Zuleya risponde con la promessa che tutti saranno felici. Poco dopo il rientro da Bursa, Lutfi torna alla villa e vede Vap con due suoi scagnozzi che vanno verso la villetta. Vap sta pensando di trasferirsi lì per stare vicino a Zuleya. Lutfi si avvicina e gli chiede cosa ci faccia. Lui, facendo il padrone di casa, le risponde che il fratello ha comprato quella villetta e saranno presto vicini di casa. Lutfi, senza pensarci su due volte, corre da Zuleya e le rivela il segreto nascosto. Qualche mese prima, un tizio aveva chiamato dicendo che Fecheli era stato ammazzato da Kadir. Aveva parlato con Betul, in quanto avvocato, e voleva indagare sulla morte di Fecheli. Ma Kadir, venuto a saperlo, aveva sequestrato Lutfi e Betul, minacciandole di non fare indagini. Ora che Kadir ha comprato la villetta e va a Pelli, Lutfi non ha potuto fare a meno di rivelarglielo. Zuleya, senza dire una parola, se ne va. Vede che stanno riportando dentro i mobili di Sermin nella villetta. Lutfi le fa notare che Kadir è il miglior amico e socio d'affari di Mehmet, quindi è impossibile che non sappia delle malefatte del suo amico. Le suggerisce di pensarci bene prima di sposarlo e poi le svela la storia del falso filmato che Kadir ha montato su Fikret, minacciandolo di metterlo dietro le sbarre se avesse aperto bocca. Nel frattempo, Sanye e Gulten, determinate a tornare alla villa in tempo per il matrimonio, si fermano lungo la strada perché la gomma del pick-up è scoppiata. Nel frattempo, Colac e il figlio sono in macchina lamentandosi del fatto che Sanye gli ha tenuto testa. Il figlio, al volante, risponde che anche se Sanye li denunciasse, la polizia non può toccarli. Arrivano proprio mentre Sanye e Gulten stanno cambiando la gomma, ma il figlio di Colac, distratto, le investe in pieno. Colac urla di scappare per evitare guai, e i due se la danno a gambe senza nemmeno soccorrere Sanye e Gulten, lasciandole stese sull'asfalto. Nel frattempo, Cetin fa una corsa veloce alla villa per avvertire Lutfi e Zuleya che la polizia ha portato via Fikret. Proprio in quel momento, Akan, tutto impettito da sposo, arriva da Zuleya complimentandosi della sua bellezza e le offre il bouquet da sposa. Ma Zuleya, senza tanti giri di parole, gli dice che ha cambiato idea e non può sposarlo. Akan, con calma apparente, chiede una spiegazione e vuole sapere il motivo. Nel frattempo, il procuratore mostra il video a Fikret, ma lui tranquillamente spiega che il video è stato manomesso e dimostra il contrario di quanto accaduto. Racconta tutto, dalla combustione della sostanza stupefacente nella pianura di Magli alla possibilità di analizzare le ceneri del rogo sul posto. Il procuratore gli domanda perché non ha fatto una denuncia alla polizia, e Fikret risponde che non voleva tirare dentro i guai Zuleya, visto tutto quello che le era già successo. Inoltre, non aveva mai immaginato che qualcuno potesse tramare contro di lui. Il procuratore, guardando il video, capisce che è tutto un trucco e manda uno dei suoi uomini ad Ankara per far esaminare il tutto dagli esperti. Nel frattempo, dice a Fikret che dovrà starsene lì. Zuleya, nel mentre, ribadisce a Akan che proprio non vuole sposarlo e lo prega di non insistere, poi se ne va. Lutfi si avvicina a Akan e gli spiega che Zuleya è un po' confusa e gli chiede di darle del tempo. Akan, con aria sospettosa, chiede se sia stato Fikret a metterle certi dubbi. Ma Lutfi gli fa capire che Zuleya è una donna forte e indipendente, capace di prendere decisioni da sola, senza farsi influenzare da nessuno. Nel mentre, Sania e Gulten sono ancora stese sulla strada fino a quando finalmente passano delle macchine che si fermano per dar loro una mano. Si accorgono che Sania è morta sul colpo, mentre Gulten respira ancora. Lutfi raggiunge Zuleya nella sua stanza e le racconta che Akan ha mollato il colpo. Zuleya riflette su se stessa, pensando se sia stata troppo dura con lui solo perché è socio di Kadir, capendo che ciò non significa necessariamente che Akan sia coinvolto nella morte di Ficheli. Lutfi le fa capire che non vuole accusarlo direttamente, ma mette in evidenza il fatto che essere socio di un tizio spaventoso e pericoloso come Kadir fa alzare qualche sopracciglio. Poi le suggerisce che, essendo una donna con due figli e la signora di Cucurova, deve decidere da sola cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma di farlo con la testa e non col cuore. La polizia arriva alla villa e comunica a Gaffur che Sania è morta, poi informa Cetin che Gulten è ferita gravemente. Gaffur, incredulo, perde la testa e inizia a urlare, ma Rashid riesce a fermarlo. Le sue grida sono così forti da attirare l'attenzione di tutti. Kola che il figlio raggiungono il loro ristorante, e il ragazzo, sconvolto, dice che se le due donne sono morte, la sua vita è rovinata. Kola gli risponde che dovrebbe sperare che siano morte, perché se sono vive, parleranno, e lui finirà dietro le sbarre a vita. Il ragazzo piagnucola disperato, ma Kola lo schiaffeggia intimandogli di comportarsi da uomo e ordina a uno dei suoi uomini di portare la macchina a sistemare, lontano da Cucurova. Nel frattempo, al circolo dove tutti gli invitati e le autorità aspettano gli sposi, il sindaco chiede spiegazioni a Kadir per il ritardo. Arriva un ragazzo che avvisa che Fikret è stato chiamato dalla polizia perché il procuratore ha ricevuto una registrazione che lo incastra nel contrabbando di sostanze stupefacenti. Gaffur, Rashid, Zuleya e Fadi che entrano in ospedale urlando. Tutti sono in lacrime. Gaffur, distrutto, si avvia verso la camera mortuaria. Quando vede Sani e immobile sul tavolo, la copre con la sua giacca, preoccupato che possa sentire freddo. Piange, la bacia e la accarezza, inginocchiandosi e pregandola di alzarsi e andare via con lui, perché non può vivere senza di lei. Nel frattempo, Cetin e Lutfi sono fuori dalla sala operatoria, dove stanno operando Gulten. Cetin è nel panico, e Lutfi cerca di dargli coraggio. Il procuratore è con Fikret e aspetta che Cetin arrivi per interrogarlo. Ma un agente lo avvisa dell'incidente mortale in cui la moglie di Cetin è stata ferita, e che lo stanno aspettando sul luogo dell'incidente. Fikret ottiene il permesso di andare da Cetin. Kadir raggiunge il fratello e inizia subito a picchiarlo, chiedendogli perché ha mandato il video al procuratore. Vahap risponde che è stata Betul a drogarlo e a rubare il video. Kadir, completamente fuori di testa, gli dice che non è più suo fratello e che non gli darà più una mano, ordinandogli di farsi una corsetta immediata verso Smirne. Vahap, lungo la strada per la stazione, costringe il tizio che lo accompagna a fermarsi e a dire al fratello che è scappato via col treno. Betul si presenta da Kadir, lui la minaccia, ma lei gli fa capire che conosce Akangu Musoglu e ha una foto in cui sono insieme a Demir. Se si scopre che lui è il socio di Kadir, è praticamente un uomo morto. Kadir, minacciando di farla fuori, riceve la controminaccia, Betul ha preso precauzioni, e se la elimina, tutto verrà fuori. Meglio trovare un accordo. Kadir chiede cosa vuole, e Betul risponde che vuole la sua casa, il suo lavoro e che riprendano la loro collaborazione. Alla fine, lui le cede le chiavi della villetta. Gaffur esce a pezzi dalla camera mortuaria dopo aver visto Sanye. Uzum lo raggiunge, lo abbraccia e gli dice che vuole vedere sua madre. Intanto, Fikret raggiunge Lutfi e Cetin, li abbraccia, dicendo che Gulten starà bene e presto potranno abbracciare il loro piccolo. Vap si presenta da Kolak dicendogli che è il figlio del contrabbandiere Salani che ha sempre sentito parlare di lui e della sua influenza. Kolak, incuriosito, chiede dove sia suo fratello. Vap gli risponde che Kadir è un po' tonto e non ha il coraggio di muoversi per prendersi i terreni. Kolak ribatte che ora lui è tornato e tutto cambierà. Vap, allora, si mette al suo servizio. Proprio in quel momento arriva la polizia e informa Kolak che c'è una denuncia contro di lui e che deve seguirla. Akhan si confida con Kadir e gli confessa di temere che Zuleya, pur amandolo, abbia annullato il matrimonio perché ha scoperto che lui è Akhan Gumusoglu. Kadir gli risponde che, in tal caso, avrebbe la polizia addosso. Akhan gli chiede se aveva una copia del video per ricattarlo, ma Kadir nega e dice che non sapeva niente. È stato tutto architettato da Vap e Betul glielo ha portato via. Akhan avvisa Kadir che presto scopriranno che il video è stato manomesso. Nel frattempo, Kolak riceve una convocazione dal procuratore a seguito di una denuncia presentata da Zuley a Yaman, che lo accusa di aver rubato gli agrumi degli Yaman. Inizialmente, Kolak nega tutto, ma poi sostiene che quella terra è sua e che la riprenderà. Successivamente, è con Vap, il figlio e un altro tizio, lamentandosi di come Zuley abbia avuto il coraggio di denunciarlo. Li avvisa che la farà pagare, e Vap gli promette fedeltà, brindando tutti insieme al declino di Zuley. Il procuratore si reca in ospedale per incontrare Cetin, Fikret e Lutfi. Li informa che stanno indagando per scoprire il colpevole e che interrogeranno Gulten appena possibile. La tensione è alle stelle. Cetin, sconvolto, ammette che potrebbe anche succedere che Gulten non si riprenda mai più. Pur essendo disposto a collaborare per scoprire il responsabile, si sgretola in lacrime, abbracciato da Fikret, confessando che non può immaginare una vita senza di lei. L'operazione di Gulten è finita, e Cetin, distrutto, si trova con Gaffore e Fikret dietro il vetro della sala terapia intensiva, dove Gulten è in coma. Pregano per la sua guarigione. Zuley arriva, e Fikret le dice che non ci sono novità e i medici non forniscono notizie concrete. Zuley è devastata al punto da respirare a stento. Fikret la porta fuori dall'ospedale, e lei confessa di non capire come tutte queste sfortune possano accadere. Lui risponde che il destino sta già giocando con le loro vite, portandosi via le persone che amano di più. Poco dopo rientrano in ospedale, mentre Akan li osserva. Poco dopo che Zuley e Fikret sono arrivati nella sala rianimazione, il cuore di Gulten smette di battere. I medici intervengono subito con il defibrillatore e le manovre di rianimazione, ma purtroppo non c'è speranza. Tutti da dietro il vetro della camera assistono impotenti e distrutti alla sua morte e a quella del suo bambino. Cetin emette un urlo straziante, con Fikret che lo abbraccia e lo sostiene. Poi, Cetin entra nella stanza, scopre il viso sereno di Gulten, la carezza, la bacia e, piangendo, le sussurra parole piene d'amore e di addio. Anche le scene del corteo funebre per Gulten e Sany che parte dalla villa sono cariche di dolore, così come la sepoltura che le vede vicine anche nella morte. Uzum abbraccia Gaffur piangendo, mentre Cetin, che seppellisce Gulten con le sue mani, le dice che lei e il loro bambino sono due angeli, che lei gli ha regalato il paradiso in terra e spera che Dio lo conceda a lei e al loro bambino. Poi lascia due scarpine da neonato sulla tomba. Dopo il funerale, Gaffur e Uzum tornano a casa e il loro rientro è una sequela di dolore e sofferenza. Gaffur, entrando in casa e vedendo le foto di Sany e Gulten appese alla parete, scoppia in lacrime. La piccola Uzum, imitando la mamma, gli porta un bicchiere d'acqua e lui, riprendendosi, la abbraccia collandola. Nel frattempo, Fadik, anch'essa piena di dolore, viene raggiunta da Lutfi. Piangendo, le racconta di aver perso due sorelle, di quanto stia soffrendo e di non sapere come farà senza di loro. Lutfi risponde che possono solo accettare il dolore ed essere pazienti. Zuleya si reca al cimitero davanti alle tombe di Sany e Gulten, sepolte fianco a fianco, come erano sempre stati in vita. Davanti alla tomba di Sany, le dice che senza di lei non saprà più con chi parlare e confidarsi. Assicura a Sany che non deve preoccuparsi per Uzum perché la tratterà come se fosse sua figlia, e le lascia una rosa rossa sulla tomba. Poi, mette un'altra rosa sulla tomba di Gulten, piangendo mentre le dice che non sa come farà senza di lei e che non avrebbe mai immaginato di dover affrontare il dolore per la sua morte. Anche Fadik è devastata, e in cucina, piangendo, tiene stretti tra le mani i grembiuli di Sany e Gulten. Zuleya si avvicina e le confida di aver trattenuto le lacrime tutto il tempo che ha passato con Uzum, ma ora non ce la fa più. Poi Fadik racconta di essere arrivata alla villa a tredici anni, orfana, e da quando Sany è la vista, è diventata sua madre, trattandola sempre come Gulten. Gulten, d'altra parte, è stata sempre la sua amica, e ora non sa come farà senza di loro, non avendo più nessuno al mondo. Zuleya la abbraccia e le dice che si aggrapperanno l'una all'altra per andare avanti. Così si concludono queste dolorose anticipazioni. È stato davvero un duro colpo assistere a queste scene, e sono sicura che tutte noi siamo un po' smarrite e provate. Il cuore è a pezzi, ma la trama è ancora piena di sorprese. Quindi, restate connessi, perché presto vi sveleremo nuovi dettagli avvincenti. Continuate a seguirci! Grazie! 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 Grazie!